bentornati questo video è dedicato a chi ha fatto un po di caos con il layout della piattaforma vediamo qualcosa di nuovo per impostare un layout e al limite per rimediare a qualche danno che si fa ecco come avevamo messo la piattaforma scorsa volta ho messo solamente due sostanti in più e siamo su una pagina default abbiamo una pagina dove abbiamo solo Apple e poi una pagina default se facciamo tasto destro noi questa qui la possiamo rinominare e dargli un altro nome mettiamo in pagina tanto per ricordarci applica ok che cosa possiamo fare con la prima pagina dove stiamo lavorando se vi ricordate sempre andando su layout abbiamo visto le colonne dati di mercato le colonne d'ordine ma non abbiamo mai visto il discorso colori che cosa succede qua se andiamo a vedere il diciamo il cambiare i colori la tre del wall station normalmente la vediamo con questi colori sempre già impostati quando andiamo ad aprirla se volessimo cambiare qualcosa dove si va ad esempio le righe di votazione possiamo cambiare il colore del testo possiamo cambiare lo sfondo decidere uno di questi colori e andarlo a modificare ok si fa sempre applica e ok mi è piaciuto bel danno bel cambio di colore e andiamo a vederlo allora layout abbiamo detto che andiamo su colori potremmo cambiare la riga d'ordine voglio cambiare la riga d'ordine gli do un bel testo diverso e gli voglio dare uno sfondo celestino ok applica ok non c'è nessun ordine dobbiamo dare un ordine per vedere che cosa che cosa potrebbe essere cambiato questa ok prezzo cetta ecco qua che adesso le righe d'ordine ce l'ha fatta in celestino tutte le righe d'ordine faremo celestini andiamo di nuovo in layout andiamo di nuovo su colori andiamo qui di nuovo il testo diamo qualche altra cosa qualche altro sfondo decidiamo qualche altro colore da modificare ok che facciamo di nuovo applica ecco qua tutto totalmente modificato ora però c'è solo un problema se volessi tornare indietro io non mi ricordo come fare a rimpostare era questo quello recente o non so vediamo un po se funziona applica ok ma che disastro diciamo che con layout dei colori a me fa un pochino impazzire a volte non riesco a capire come cambiarlo come rimettere un po tutto a posto diciamo che se ho fatto un po di disastro bello questo verde favoloso e ho fatto un po di disastro nei spostare le colonne mi sono perso qualcosa non c'è più quello che mi piaceva oppure addirittura proprio ho eliminato delle cose perché lì per lì mi sembrava che non mi servissero e invece è diventato un disastro ho fatto elimina elimina e limita e qua mi è diventato un guazzabuglio c'è un modo ragazzi per mettere tutto a posto si torna qua su file recupero impostazioni vado indietro oggi sto registrando che venerdì 7 maggio torno indietro un'impostazione precedente vediamo se questa qui di sempre di oggi può funzionare mi fa tornare quindi recupero le impostazioni di un giorno precedente o comunque di una situazione precedente vediamo che succede non mandiamo la segnalazione vediamo che succede se sto tentando di tornare indietro e quindi riportare alla alla fase iniziale non lo voglio apri senza segnale il problema ecco qui che ci ha di nuovo chiuso la piattaforma e dovremmo riuscire a visualizzare qualcosa che avevamo in precedenza come come impostazioni vediamo ora che ci siamo riusciti eccoci qua perfetto siamo tornati al non più al caos che ho fatto con i colori ma come avevamo qualche minuto fa mentre sto registrando la visualizzazione del nostro layout quindi qualsiasi cosa voi stiate facendo o comunque aveste cambiato con i due video precedenti che abbiamo fatto ricordatevi che si può tornare indietro facendo recupero impostazioni quindi il fatto di cambiare un po tutti i colori bel verde fosforescente penso che qualcuno se lo stavate vedendo di notte va anche un po un po svegliato è servito più che altro a imparare questo tipo di cosa a tornare indietro nel recupero impostazioni chiaramente noi avevamo chiamato cambiato anche la pagina l'avevamo chiamato in un altro nome invece è tornata a chiamarci la default e noi la chiameremo stavolta di nuovo prima pagina applica e ok abbiamo cambiato il nome alla nostra pagina ok il video di oggi era un po scherzoso un po per farvi giocare con questa piattaforma che ogni tanto vi fa penare dirvi che insomma se ci avete giocato troppo avete sbagliato troppo con layout si può sempre tornare indietro e trovare una via d'uscita e grazie e come al solito vi ringrazio e buon divertimento